Siamo a vedere il meleto di Bernini questo è quanto alberi e alberi e alberi filate filate qui sono alla raccolta il meleto si trova a Pettori io non avrei mai pensato allora a parte che c'è le sabbie mobili da questa parte potrei rimanerci per sempre a Pettori comunque a Pettori c'è il meleto del Bernini Praticamente quelle che cadono non si raccoglono Di qua sono quattro fine e sono questa e che razza è questa? Questa è la frucia, se no poi c'è cinque file di Steinmann che si chiama Buccavona, due file di Golden è un po' tutto ogni anno si cambia un po' Perciò oggi fate la raccolta ogni giorno? Non lo raccogliete o solzate? No, è a periodi, l'abbiamo finito di cogliere tranne la fuji, ora rimane da cogliere questa, è l'ultima che si coglie Poi se ne riparla il prossimo anno a luglio con le pere Ah, per cui io pensavo che venissero raccolte di settimana in settimana No, sarebbe troppo facile, non sono un agrumi, il suo periodo vanno raccolte, se no poi casca Wow 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 Mele a pioggia, qui sono quelle che invece sono già state corte e di là poi ci sono anche le file delle pere Wow 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 Perciò questa è l'azienda di Bernini Che abbiamo qui a Pettori Più chilometro zero di così ragazzi Ciao Grazie Grazie